A scuola di Minecraft! A scuola di Minecraft! Nooo! Qui dovremmo fermare il video! Nooo! E che cosa di sumata! Abbiamo un buco nella... Vabbè, calamaro vedi il macello che hai fatto, vai a dormire, va! Andiamo a dormire! Calamaro mongoloide! Dai, scrivi, non ci vedi, c'è il buco, entri dal buco! Ma come? Ca fai? Non blocchi dirte! Il nostro server parla, non di scelto! Certo! Oh! Sai che nel video si vede che sono io che scrivo come serve? Dai, c'è il buco! Guardi qua, magari già conoscevano! Zupput aspetto! Però ho questo buco espressivo comunque! Calamaro tappa al buco! Veloce! Calamaro tappa al buco, non mi va! Di punizione! Guarda al muro! Ma perché devo tappare il buco? Io finito il dirlo! Però io non ti preoccupare! Tappa al buco! Sono dirto, dirto, man! Io sono dirto, dirto, man! Appena datiamo il buco dobbiamo andare in minera! Sì, tappi, prima morire guai! Perché... Non possiamo rimanere sempre così! Pensaci tu! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Per mettere il legno! Ma hai sbagliato! Ma non te ne accorgi! Hai sbagliato! Solo un euro! Solo un euro! Quello non lo faremo bene! Siete capito? Il pubblicità non lo dire? Perché se no... Si dovremmo volare! Si ci arrestano, certo! Si ci arrestano, certo! Ci arrestano perché stiamo... No, va bene! Non abbiamo detto il nome di nulla! Mettiamo un super pipo disumano su tutto quanto! Ok, bisogna rimettere il vetro! Io ce no, ce no, ce no! Perchè io sono zuppetta sterta! Perché io sono zuppetta sterta! E te non dico, guarda, te ne ho dati 10 precisi, ne devi mettere uno anche qua! Però... 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 Non so perché... Appunto, lo devi mettere qua! Prendete... Tutte le cose nelle ceste, fuori, nelle ceste dentro, mi favore! No! Ora scopriamo dove dove andare! Luruo, luogo! Abbiamo due Mellore! Abbiamo due mileri e prime, non ci andiamo! Odellata, vietato truppa 3282 object Wiki! La trama! Mi Kylie diferen Christopher, Mk D capo anche già piccoli non mi crede e' un po' libero aglio voto spari di cartelli cartelli aspettami di quadri di cartelli attrezzi liberali l'impianto non ha preso 15 qui e' la guida paribidi che non so quali sono gli oggetti che ci mette dentro vabbè poi faccio molto bene per il volante scrive amica io ho messo troppo poco non posso premere le petane guardate come se vediamo oddio che spettacolo con l'aggiornamento di manca il tic il cartello dove c'è stato uno vecchio ti rispondo le stesse cose io non è possibile ornamenti power allora mancano 50 secondi in 50 secondi allora andiamo nella superminiera stelto c'è no 16 io beh in 50 secondi facciamo tempo a dire questo è il terzo episodio no, benissimo stiamo dove, ti seguo va qua no.. no.. stai dando la mazza della porta io veramente sono sotto terra zug no, sei davanti alla porta vai alle fornaci vai alle fornaci oddio no, aspetta devo fare uno screenshot a questa parte e poi te la mando con che tasto si fallo? F2 ci stavi dentro davanti ma ti levi e vi fallo ok vabbè la musicetta per dire ciao a tutti e parte la musichetta di Mario qui dice la musichetta che dice ciao a tutti parlo solo io suppetentato lui è davanti alla porta fisso io veramente non sono davanti alla porta vai dietro la la crafting box ma guarda come si impegna a venare la porta vai dietro la crafting box ok ci sono scavo come scavi? non è possibile dovete guardare il video è tipo una cosa bellissima scendi scendi io vedo che tu vedo che tu spezzi l'aria dai vieni giù io vedo che tu spezzi l'aria vieni giù però non lo riesce a colpire mi state veramente mi state colpendo venite giù oh ma tu stai venendo la porta si ma vieni oh vai dietro la la crafting box e scavi ho capito devo scavare scava ma si ho capito grazie guarda che bellissimo scavi l'aria io sono qui mi sei appena cascato addosso non è vero si guarda aspetta vedo un po' d'acqua vabbè con la musichetta di mario diciamo ciao a tutti dobbiamo scavare qui aspetta zuffal dobbiamo scavare qui cosa fai? oh vedi che sto scavando vabbè sta allargando in maniera disumana io direi che con la musichetta di mario diciamo ciao a tutti da zuffetta 97 basta da tu e calamaro ciao ciao a tutti ciao ciao